Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo sentito parlare di un sacco di sostanze. Prima è stato citato un numero 800. Più persone che mi hanno preceduto hanno fatto riferimento a classi di composti i più disparati, dai metalli, eccetera, eccetera. Ora, in questo momento la ricerca nell'ambiente, perché io una volta mi occupavo di pioggia acida e dicevo io mi occupo di ciò che mi cade sulla testa, ci sono i colleghi che studiano quello che cade sulla mia testa. Quindi io vedo il problema da che cosa mi arriva nelle acque. Questa presentazione fa riferimento ad un'attività che è il cluster Lombardy Energy Clean Tech Cluster, uno dei nuovi cluster della regione Lombardia, ha avviato, d'accordo con la collaborazione della regione Lombardia, per dare un quadro di quelle che sono le sostanze che stanno, le nuove sostanze che si trovano sempre di più nell'ambiente. Cosa fa il cluster? Il cluster si occupa di una serie di aspetti, ha un'area tematica che si chiama Water Energy Nexus, di cui il collega Giovanni Bernia dell'Ariana Depur è il referente industriale e io sono il referente per la parte ricerca. Questa area di interesse del cluster ha una visione molto olistica, anche questo è un altro termine usato oggi, lo vedete, insomma cerchiamo di affrontare un po' le problematiche più emergenti. Ma veniamo a che cosa recentemente, ovvero dall'inizio dell'anno scorso il cluster ha avviato. Ha avviato un gruppo di lavoro sui microinquinanti emergenti. Poi la collega che mi seguirà entrerà più in dettaglio, darà anche delle liste, eccetera. Per contaminanti emergenti intendiamo sostanzialmente una vastissima gamma di composti. Peraltro, per dirla molto semplicemente, tutti quelli che fino a qualche anno fa non venivano studiati o non venivano monitorati dalle normative vigenti, ma non vent'anni fa o trent'anni fa, ma fino a dieci anni fa circa. Parliamo sostanzialmente di migliaia di sostanze. Nel 2017 un rapporto del GRC, della Commissione Europea, ha elencato più di 2.700 microinquinanti che vengono trasportati nel mare del Nord. Il regolamento RICH, più volte giustamente richiamato, parla di circa 30.000 sostanze e prodotti chimici. In realtà le sostanze di cui noi stiamo parlando sono migliaia, sono milioni. Ora, per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, prendendo quell'articolo che avete visto prima, ecco, qua abbiamo una serie, adesso non sto a indicarvele, dai farmaceutici agli steroidi, ai tensioattivi, prodotti chimici industriali, di cui abbiamo sentito parlare prima, pesticidi, eccetera, eccetera. La cosa che mi interessa farvi vedere è che parliamo di sostanze che, come vedete, hanno una variabilità dell'ordine di 10 alla 7, in termini di concentrazione, nelle acque, nell'ambiente. Allora, cosa fa il gruppo, cosa si propone il gruppo di lavoro microinquinanti emergenti? Stanto il fatto che, bene o male, la conoscenza, oramai, da posizione della ricerca, è abbastanza matura. Quello che sembrava, ci sembra, possa essere interessante, è andare a mettere insieme un po' tutte queste conoscenze. E nel febriano 2018 abbiamo avviato questo gruppo di lavoro microinquinanti emergenti che focalizza l'attenzione sulla regione Lombardia, grazie alla collaborazione della regione Lombardia, e il contributo all'università, istituti di ricerca, aziende di servizio integrato, la Reania Depur, il Jersey di Ispra, l'Arpa Lombardia. Stiamo cercando di arrivare ad una raccolta, per fare uno state of the art, della diffusione dei miei nei corpi idrici superficiali, in vista di quelle che possono essere future strategie di contenimento, norme, legacy. L'attività è divisa in due fasi, in questo momento stiamo portando avanti la prima fase, che finirà a primavera 2020 con un convegno di presentazione dei risultati, e qui stiamo raccogliendo informazioni tecnico-scientifiche su quelle che sono le dimensioni del fenomeno in Lombardia. E pensiamo di arrivare a produrre un documento finalizzato a descrivere dove stanno prevalentemente le misure, quali sono le variazioni di concentrazione, gli effetti che possono avere eventualmente sulla salute, le tecnologie di rimozione, e arrivando, se possibile, a dare uno sguardo alle tecnologie produttive. Un prima carrellata all'interno di questo tavolo di lavoro ha messo in evidenza che coloro i quali partecipano già di per sé analizzano oltre 215 sostanze nelle acque superficiali, 205 nelle acque sotterranee e via così le leggete lì. Quindi parliamo di centinaia di sostanze. Allora, durante la prima fase pensavamo di creare diciamo in casa un database. Una fortunata opportunità nata da un convegno che abbiamo realizzato a Politecnico a giugno dell'anno scorso anno ci ha permesso di metterci in contatto con il GERSI. Il GERSI è l'istituto di ricerca comunitaria che sta a Ispra e guarda caso abbiamo incontrato abbiamo invitato una persona che stava lavorando a creare un database europeo una cosa molto importante che raccoglie i dati di monitoraggio in Europa. Questo database si chiama IPCAM i cui obiettivi sono è una piattaforma informativa per il monitoraggio delle sostanze chimiche nell'uomo, nell'ambiente, nei cibi, nell'area indoor, eccetera. Ha un approccio coordinato alla raccolta archiviazione accesso e produzione dei dati è un sistema che fornisce comunque l'accesso remoto a qualsiasi dato che viene prodotto fatto salvo che chi le ha prodotto consenta di vedere o di scaricare quei dati. Attualmente ci sono circa 1600 sostanze per oltre 22 milioni di misure. quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi naturalmente in primis questa cosa l'ha voluta la Commissione Europea se deve fare delle direttive e ne farà aggiornando le liste delle stanze prioritarie eccetera eccetera e chiaramente deve avere un quadro di quello che sono le sostanze che ci sono vanno a normare qualche cosa che in realtà è poco importante o dimentico qualcosa molto importante. una cosa importantissima è un database che pensa che ha l'obiettivo anche di ospitare dati orfani tutto ciò che viene prodotto ha la vita di un flash poi viene cade nell'oblio di fornire dati monitoraggi informazioni di qualità definiti in termini di tracciabilità spaziale temporale metodologica e metrologica è una visione a medio lungo termine per le politiche prendendo a prestito due slide che vi faccio vedere presentate nel corso dell'incontro dei primi ottobre in cui il GRC ha accettato di collaborare ha accettato la nostra proposta di collaborare con loro ecco qui vedete chi sono i diciamo gli attori il coordinatore politico è la DG Environment il board politico è fatto da più soggetti che vanno dalla salute al riciclo sviluppo a GRC all'ambiente eccetera c'è un coordinatore scientifico e tecnico che sta a Ispra quindi dietro l'angolo e quindi per quello che è anche un grosso vantaggio che è la DG GRC ok qua vedete un po' è un discorso molto complesso insomma che va a coprire un po' tutta una serie di settori non la voglio fare troppo lunga andiamo avanti attualmente 250.000 concentrazioni misure ci sono 2500 sostanze composte 40 dati 40 diciamo fornitori di dati più o meno questa è la distribuzione dei data providers la commissione europea l'agenzia europea dell'ambiente eccetera eccetera eleggete voi stati membri eccetera questo bene o male dà un'idea di quelle che sono le informazioni che ci sono la farla padrone e l'environment in questo momento però anche il bio human biometoring è molto importante ma la cosa è in progresso il gruppo il gruppo di lavoro MIE ha individuato attorno a questo tavolo ci stanno una ventina di partner otto producono dati di questi otto sei si sono offerti e stanno lavorando insieme a noi per arrivare alla produzione di queste informazioni a fornire queste informazioni entro a fine giugno c'è un quadro grosso modo di quelli che sono le tipologie di informazioni che verranno prodotte come vedete ci sono si va nelle acque superficiali ai biota eccetera di fondo cosa c'è ogni data ogni data owner rimane abbiamo dunque alla fine di tutto di una lunga discussione siamo arrivati a questo punto ogni data owner mantiene la propria titolarità i dati sono suoi e decide lui a chi farli vedere li fornisce al agersi che li assembla secondo standard loro fanno tutto loro il data owner poi scarica i dati e li fornisce sulle ultime due e li fornisce per l'elaborazione in questo modo garantiamo da un lato la proprietà e dall'altro lato la capacità di elaborare queste informazioni questo database è interrogabile è online si possono scaricare con varie possibili visualizzazioni e vabbè si può scaricare in formato zip eccetera sono aspetti tecnici la precedente cosa miriamo in questo modo noi pensiamo di contribuire a definire lo stato dell'arte delle conscienze sulla presenza di fusione e pericolosità dei micronati emergenti e prioritari immaginate una visione è una sigla è un brand chiamiamo è una quantità diciamo non stiamo a sottilizzare se sono i pesticidi o sono soltanto il grifosato o altre questioni tutto ciò che viene misurato possibilmente a crescere la collaborazione tra gli enti e avviare un processo di condivisione tra probabilmente una fetta maggioritaria degli attori che sono in Lombardia e si occupano di queste cose ciò consentirà di ottenere un database uniformato da cui con la fine di quest'anno pensiamo di arrivare a fornire un rapporto che potrà essere un punto di partenza per la regione e per le prossime decisioni la cosa fondamentale è che di fatto stiamo cercando di creare un protocollo un modo un modello per affrontare la conoscenza di quanto sono diffusi queste sostanze nell'ambiente lombardo per eventuali ulteriori contatti eccetera eccetera qua vedete il nostro riferimento grazie a tutti grazie a tutti